Ok, sono dentro. Ciao a tutti, io sono Giacomo e benvenuti in questo nuovo video qui a Dentro P4Life. La recensione di Matrix. Ecco, Matrix è, credo, il mio film preferito, sicuramente il mio film fantascientifico preferito. E non vedo l'ora di fare la recensione biologica, quindi è da un bel po' che mi sto preparando, anche perché secondo me è uno di quei casi in cui la recensione biologica arricchisce il film, a parte un paio di aspetti che sono un po' problematici, soprattutto l'aspetto termodinamico, ma per lo più secondo me invece è una delle cose che, Matrix è una delle cose che più si analizza, secondo me è più diventa bello. Quindi oggi parliamo di questo. Parlo del primo film, se la recensione vi piace ditemelo perché ce ne saranno altri due. Ma tu chi sei? Lo sai benissimo chi sono. Sono Morpheus. Ma non dovresti essere pelato? Aspetta un paio di anni e poi ci siamo, fidati. Giacomo, ascolta, tu sei del letto. Ora scegli. Caramella al lampone o caramella all'anice? Ma a me hanno sempre detto di non accettare delle pillole caramelle dagli sconosciuti? In realtà è tutta una metafora. Caramella all'anice e la tua vita continuerà a rimanere con questo gusto piatto e fastidioso? O accetterai caramella al lampone che in realtà tutto è molto più complesso, che quello che sembra un frutto in realtà non è altro che l'insieme di tantissimi frutti messi insieme e che però la gente continua a chiamarle frutto ed è un assoluto casino sta cosa e che tutto il più complesso è che in realtà viviamo in una realtà dentro a un super computer e che un sacco di gente è attaccata per alimentarlo. Vedi un po' te a quale realtà ti preferisci. Ok, 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 va bene, va bene, va bene. L'anice mi fa abbastanza schifo, quindi grazie al lampone. Ora posso dirti la verità. In realtà è tutto finito. Viviamo in una realtà virtuale. Guarda, è tutto verdognolo. È che le macchine ci hanno messo dentro dopo che noi abbiamo provato a oscurare il cielo per vincere la guerra, la guerra che abbiamo perso. Ma va. Ecco perché è tutto verde qua. In realtà tu non sei reale. In questo momento sei attaccato a dei macchinari che stanno alimentando tutta Matrix e hai degli elettrodi nel tuo cervello che stanno appunto alimentando tutta questa realtà virtuale. Tu non sei davvero qui. Tu non sei altro che questo. Una batteria. Oh, finalmente Morpheus. Ci siamo perché questo... Spiegami bene che tu che ci sei qua, che mi dai una mano perché è davvero il problema principale che ho io con me. Matrix. Allora, noi saremo delle batterie, però c'è un problema nel senso che... Cioè, arriviamoci un attimo. Allora, ci sta che Matrix sia fatta... funzioni con l'elettricità. Ci sta che le macchine riescono a ristrarre l'elettricità dal nostro cervello, ok? Però spiegaci un attimo. Non è che noi abbiamo tanta energia nel nostro cervello. Il nostro cervello quello che fa è prendere i nutrienti, per lo più glucosio, e creare anche, sì, alla fine a ben vedere quello che abbiamo nel cervello. Sono microimpulsi elettrici che magari sono mati e possono fare anche energia elettrica. Ci sta. Ma più che quindi una batteria la vedo più come una piccola centralina, una piccola... un piccolo mulino, ok? Che è in grado di produrre elettricità. Una piccola turbina più che una batteria. Anche perché non è che io posso estrarre elettricità all'infinito da un cervello. Devo, appunto, alimentarlo, devo alimentarlo con dei nutrienti, giusto? Anche perché se non fosse così ci sarebbe un ovvio problema termodinamico. E adesso ci arriviamo. Però pensaci un attimo. L'energia che riesco a estrarre dal cervello non può essere di più dell'energia che era già presente nei nutrienti, nei legami chimici dei nutrienti che do al cervello. Altrimenti andrebbe contro la prima legge della termodinamica. Anzi, e per la seconda legge della termodinamica quell'energia che riesco a estrarre è meno. Quindi magari, boh, cioè, Matrix può essere un ottimo modo per estrarre in modo efficiente energia dai nutrienti. Però non mi torna altrimenti. Ok, piano piano, la stai facendo un po' troppo complessa. Però c'è un problema, che è un altro. Ed è questo. Quando io ho visto Matrix, c'è la storia, no? Dei nutrienti degli esseri umani che erano usati non come batteria allora, ma come delle turbine elettriche per estrarre energia, magari in modo anche molto efficiente. Cioè, non mi sorprenderebbe se i meccanismi biologici nella capacità di estrarre energia dal glucosio, per lo più, o da altri nutrienti, sia molto efficiente. Questa cosa la diamo anche quasi per scontata. Il problema, invece, è l'altro. E cioè, da dove arriva quell'energia? Da dove arriva l'energia dei nutrienti? Perché, fanno un attimo con me, eh, Morpheus. Io, quando ho visto il film, l'ho visto. Parlano di questa cosa. Dicono che i nutrienti non sono altro che altri esseri umani liquefatti. Però, capite, no? Esseri umani, liquefatti, vengono nutriti con esseri umani, ma questo è un ciclo chiuso. Non si può estrarre energia all'infinito da un ciclo chiuso, perché stai andando contro la prima legge della termodinamica, no? L'energia che c'è dentro a quel sistema è finita. E via via che tu estrai diminuirà. Non solo. Via via che i cicli diminuiscono. Non solo diminuisce l'energia, ma diventa anche sempre meno utilizzabile per via della seconda legge della termodinamica. Quindi c'è un problema, no? Termodinamico in Matrix. È proprio un problema ecologico. In un qualsiasi sistema ecologico, deve essere c'è un flusso di energia che entra, che permette appunto di mantenere l'energia uguale, o comunque far aumentare l'energia da una parte, per poter poi farla uscire da un'altra. Pensate alle piante. Le piante, per esempio, assorbe l'energia del sole e quell'energia poi fluisce all'interno di tutto l'ecosistema, gli animali e così via. Deve esserci una qualche forma di energia che entra in questo ciclo. Siamo d'accordo. Però nel film non è dato a saperci. Giusto? Anzi, pensaci un attimo. Può essere il sole, però il sole no perché è stato oscurato. Può essere energia geotermica, nucleare. Ma allora io mi chiedo, Morpheus, se le macchine hanno dell'energia geotermica nucleare e da fare entrare in questo ciclo, non potevano usarli direttamente senza fare tutto questo casino. Però non c'hai tutti i torti. Boh, comunque ecco non me lo spiego. Quindi fammi sapere se scopri qualcosa, anche perché se le macchine da qualche parte hanno nascosto delle centrali geotermiche o nucleari, magari tipo proviamo a bloccare quello e abbiamo vinto contro le macchine. Io la butto la E, poi magari mi sbaglio. Comunque hai capito, Morpheus. Scusami, so che la tua storia non torna così tanto, ma anzi, meglio, troviamo la soluzione. Però adesso dai, ti prego, lasciami andare avanti con la recensione che ho roba di cui parlare. Non importa quello che dici, cioè nel senso, grazie, bene. Ne parleremo quando saremo fuori da Matrix. Ora, per favore esci, hai preso la caramella al lampone, quindi devi uscire. Perché dovrei uscire da Matrix? Matrix è una figata per fare le recensioni scientifiche qua. Guarda, guarda cosa posso fare. E ti prego, Trinity, puoi insegnarmi le neuroscienze? Pronto. Ok, dammi dieci secondi. Questo no, questo no. Eccolo. L'aspetto neuroscientifico di Matrix è probabilmente l'aspetto più interessante e preponderante all'interno del film, ma è anche quello scientificamente, in un certo senso più fondato, più forte. Adesso ci arriviamo. Perché? In realtà esiste un'intera branca di neuroscienze o di tecnologie legate alle neuroscienze che si chiama proprio BCI, Brain Computer Interface, un insieme di tecniche che fanno proprio quello che succede in Matrix, anche se lì viene messo tutto all'ennesima potenza. Ed è il comunicare tra cervello e computer. E questo non è neanche così strano, perché tra tutti gli organi del nostro corpo il cervello è quello che meglio di tutti potrebbe comunicare con un computer. Perché? Perché se noi guardiamo un cervello, in realtà il cervello non è altro che, dopo ci arriviamo, che miliardi di neuroni che comunicano tra loro attraverso piccole correnti elettriche. Le correnti elettriche sono dovute a piccoli flussi di ioni e poi noi sappiamo che per definizione delle correnti elettriche che non sono continue tendono a generare anche campi magnetici. Quindi in realtà l'insieme poi di tutti questi neuroni che dialogano tra loro creano tutto quello che noi siamo, tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi sentiamo. Benissimo. Ovviamente parliamo di una complessità quasi infinita, perché se parla di l'interazione di miliardi di neuroni, però rimane il fatto che in realtà noi quello che possiamo vedere da fuori, per esempio guardando, cercando di capire i flussi elettrici, i flussi magnetici all'interno del nostro cervello, noi possiamo ricondurre emozioni, sentimenti a flussi. Benissimo. Ovviamente è complessissima come cosa, ma non è così improbabile. Quest'ambito della BCI in realtà ha già prodotto tantissimo. In realtà, come vi dicevo, andando a osservare le microvariazioni nei campi elettrici, nei campi magnetici di un cervello, anche dall'esterno, noi possiamo già in un certo modo ricondurre, capire se certe aree sono più o meno attivate. Questo lo sappiamo fare da tantissimo ormai, ma non solo. Questo è un esperimento del 99 che è pazzesco, che è in grado di vedere in un certo senso quello che sta guardando un cervello. Questo è ricostruito, sono immagini ricostruite, vedete sopra le immagini viste da un gatto, mentre sotto è l'immagine ricostruita. Perfetto. Capite? Nel senso, qui è la macchina che sta prendendo informazioni dal cervello. Viceversa, si può fare anche il contrario. Esistono in realtà delle tecniche di Deep Brain Stimulation, quindi simulazione elettrica profonda del cervello, per cui in realtà con degli elettrodi messi in certe aree del cervello si possono attivare intere popolazioni di neuroni con piccolissime scosse che possono, come dicevo prima, immaginatevi, messi in certe aree possono, che ne so, rilasciare certi ormoni o certi neurotrasmettitori dando, che ne so, la sensazione di piacere. questa cosa è già stata fatta, è una cosa che si può fare e che potrebbe diventare in futuro una tecnica per esempio per risolvere problemi, immaginiamo, problemi legati a grosse patologie nel sistema nervoso. Quindi in realtà questo so che fa spavento, può far spavento, ma in realtà fa parte di un tipo di studi che in realtà potrebbe essere utilissimo per tantissime cose, oltre al fatto che poi immaginatevi anche a livello di protesi, questa cosa può essere magnifica, no? esattamente come io adesso penso un movimento e c'è un'intera via che passa e che mi fa fare questo movimento, beh, questa cosa potrebbe essere, se non è possibile perché magari ci sono stati dei problemi, si può fare attraverso delle macchine, quindi la macchina che legge la volontà di muovere il braccio e questo viene fatto, legge proprio il movimento a livello nervoso e questo viene fatto benissimo. Quindi sono tutte tecniche che per quanto possono un po' spaventare inquietare me ne rendo conto, in realtà possono avere dei riscontri molto positivi. Inoltre poi sono state sviluppate le tecniche anche più capillari, per esempio l'optogenetica è una tecnica per esempio che permette di attivare uno o pochi neuroni per volta attraverso delle tecniche di illuminazione di neuroni appunto che sono stati infettati con dei virus che hanno dei canali presi da un'alga, ok? Questa cosa è complessissima, lo so, ve ne parlo magari in un video, magari con un amico neuroscienziata che ne parliamo bene di questo aspetto. Detto questo, per cui in realtà noi possiamo non solo fare deep brain stimulation e stimolare intere aree del cervello, ma ormai siamo a livello in cui volendo si può davvero dialogare e creare un cross talk con i singoli neuroni e quindi questo sì, questo ci avvicina in parte a quello che è Matrix, ovviamente senza perché farlo, per quale motivo farlo. c'è un altro aspetto, ormai noi siamo al punto in cui possiamo sviluppare intere culture cellulari direttamente su culture di chip, ok? chip davvero con un computer con microelettrodi piccolissimi in cui lì il rapporto singolo microelettro o due pochi neuroni può essere univoco, è un po' come quello che io posso immaginare che sia successo nel cervello di Neo quando le macchine hanno messo questo spinotto, questa spina all'interno del suo cervello quando lui da piccolo e poi i neuroni a mano a mano sono cresciuti intorno creando questo dialogo continuo tra i neuroni e le macchine. Perfetto, ci siamo, c'è un aspetto un po' particolare ed è questo. Noi in realtà ora sappiamo molto di molte vie all'interno del sistema nervoso, quelle tipo neuromotorie, noi sapremo capire, vedere, magari anche spingere, attivare delle vie neuromotorie, alcune altre vie e quelle legate magari alle emozioni, alle sensazioni, già possiamo immaginare che sono le vie che per esempio però non conosciamo ancora come la via della coscienza, se c'è, se esiste, cos'è, che cosa non è e quindi il fatto che per esempio in Matrix venga anche simulata la coscienza per noi è strano, vuol dire che probabilmente le conoscenze neuroscientifiche delle macchine per poter fare Matrix devono essere molto più ampie di quelle che noi abbiamo adesso perché noi attualmente non siamo in grado di simulare, dialogare con una coscienza. Dito questo, se vi interessa un po' l'argomento di consiglio, un libro che è questo, ho sbagliato, la bussola del piacere in cui per esempio si parla delle vie legate a il piacere, a alcune emozioni, alcune sensazioni, molto bello e fa capire davvero come sia, siamo a un livello in cui davvero noi possiamo capire in parte alcune vie come dicevo prima e quindi eventualmente perché no simularle ovviamente poi tenendola a parte o ragionando su tutti i problemi etici che questo ovviamente porta perché immaginate, capite bene, perché avere un elettrodo in un cervello che eventualmente può darmi una scarica di piacere può essere una cosa strana, bella, problematica dipende dai punti di vista. Detto questo però poi di neuroscientifico c'è l'ultima cosa a dire che invece è problematica di Matrix ed è il fatto che tutti i personaggi ma soprattutto il nostro personaggio principale Neo dopo essere stato staccato alle macchine riprende nel giro di non si capisce quanto ma sembra molto tempo la maggior parte delle proprie funzioni. Ecco questo è un po' il passaggio più problematico nel senso che se noi accettiamo che il cervello questo e lui sia stato cresciuto in questa vasca via via sviluppandosi collegato alla macchina e quindi i suoi recettori ottici le giunzioni neuromuscolari non si siano sviluppate come succede con una persona o con un individuo che invece ha la possibilità di farlo in modo normale soprattutto avendo gli stimoli esterni ok noi non dovremmo aspettarci che questo sarebbe in grado di recuperare dopo a posteriori le cose perché dovete tenere conto che durante lo sviluppo anche nei primi mesi e anche ancora dentro al feto c'è proprio un dialogo continuo tra l'esterno la luce che arriva anche all'inizio e il cervello se per caso non arriva la luce davvero i recettori non si collegano al sistema nervoso e quelle giunzioni sono praticamente irrecuperabili a meno che nel film matrix le tecnologie degli umani non siano così tanto sviluppate da non poterlo fare ok ho messo tantissima carne al fuoco spero vi piaccia vi metto una una storia della BCI in descrizione in realtà è semplicemente wikipedia inglese che però ha fatto un ottimo lavoro e poi se volete approfondire ulteriormente come si fa in quei casi sotto ci sono tutti gli studi ultima cosa che voglio dirvi su matrix è questa nel film a un certo punto c'è una scena bellissima che io adoro profondamente perché a me l'agente smith come personaggio piace tantissimo in cui l'agente smith prende morfeus legato e drogato non si capisce col mercurio sembra ok e cerca di estrapolargli la password per arrivare a zion detto questo quello che succede è che gli fa un discorso bellissimo un discorso in cui dice che noi esseri umani siamo come dei virus però facciamo così ve lo faccio vedere anche se forse ho trovato una versione free diritti free eccola qui desidero condividere una geniale intuizione che ho avuto durante la mia permanenza qui mi è capitato mentre cercavo di classificare la vostra specie improvvisamente ho capito che voi non siete dei veri mammiferi tutti i mammiferi di questo pianeta tendono a sviluppare un naturale equilibrio con l'ambiente circostante cosa che voi umani non fate vi insediate in una nuova zona e vi moltiplicate vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce e l'unico modo che avete per sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca c'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento e sai qual è? il virus voi esseri umani siete un'infezione stesa un cancro per questo pianeta siete una piaga e noi siamo la cura l'agente Smith ha ragione? nel senso pensateci un attimo so che questo discorso è peso molto peso ma ha ragione nel senso noi siamo come dei virus siamo dei cancri perché in realtà questa è una visione del mondo un po' particolare nel senso effettivamente noi siamo una specie che sta uccidendo altre specie sta cambiando l'habitat questo ormai è una cosa vera da migliaia degli anni forse decine di migliaia di anni sicuramente da quando abbiamo sviluppato l'agricoltura questa cosa è successa tantissimo però c'è un problema in quel discorso lì e ci sono due da una parte lui scrive dice che gli esseri umani a differenza di tutti gli altri mammiferi non tendono a sviluppare un naturale equilibrio con l'ambiente circostante ora questa cosa è falsa nel senso che questa idea di equilibrio è problematica nel senso che neanche gli altri mammiferi tendono a sviluppare un naturale equilibrio pensiamo a tantissime specie che negli ultimi anni hanno avuto delle crescite enormi di popolazione questa è una cosa tipica delle specie aliene invasive specie prese portate in un altro posto che iniziano a crescere enormemente pensiamo alla nutria pensiamo per rimanere nei mammiferi pensiamo ai gatti pensiamo ai cani in certe parti del mondo sono cresciute enormemente fuori da qualsiasi equilibrio l'equilibrio di cui si parla che esiste è il cosiddetto equilibrio ecologico famoso perché è stato modellizzato matematicamente da Lodca Volterra per cui se per caso effettivamente i mammiferi i predatori per esempio crescono troppo allora le prede decrescono e questo fa decrescere i predatori e questo crea una specie di equilibrio dinamico ma che non è una cosa interna ai singoli ok questa è una cosa importante a tenere non è che i gatti ok perché loro non sono in equilibrio in questo momento non è che i lupi neanche loro lo sono non è che gli animali tendono a stare là buoni perché perché sono bravi perché no perché ci sono delle forze esterne che li mantengono in equilibrio come il calo del numero di prede o viceversa l'aumento dei predatori se tu sei una una preda quindi questa è importante nell'inconsidazione ma poi c'è l'altro aspetto noi siamo così tanto simile a dei virus i virus questi sono questi parassiti cellulari che entrano in una cellula la sfruttano e in alcuni casi loro poi escono o facendola scoppiare oppure uscendo in un po' alla volta bene questa cosa ci sta è abbastanza simile magari a quello che potrebbe essere fare una volta gli umani quindi immaginatevi in quei casi in cui c'era i cacciatori e accoglitori oppure in cui per esempio si faceva si usava la tecnica del bruciare intere aree di una foresta coltivare per totanni e poi scappare questo era un tipo di ecologia molto simile a quella di un virus in realtà noi esseri umani siamo molto più strani perché siamo uno di quegli animali piante che fanno una cosa ben riconosciuta la cosiddetta costruzione di nicchia cosa vuol dire? vuol dire che noi a differenza di altri di tanti altri animali siamo come i castori noi cambiamo l'ambiente intorno a noi un ambiente che per noi magari era in ospitale lo rendiamo in ospitale come lo facciamo con l'agricoltura ok? quindi siamo molto diversi da un virus noi tendiamo a via via modificare l'ambiente questa cosa in realtà ci rende molto più simile a un'altra cosa che viene citata nel discorso di smith che è il cancro ora so che è brutto che dire noi ma ne siamo dei cancro però in questo siamo molto simili al cancro il cancro ha questa stessa prerogativa che tende a modificare la nicchia intorno a sé qualche piccola sparuta cellula riesce a cambiare modificare l'ambiente intercellulare quindi l'acidità della zona riesce a far arrivare ovviamente come si fa attraverso dei segnali chimici quindi dicendo fate arrivare dei vasi sanguini quindi aumentando i nutrienti che possono arrivare in quella zona ecco in questo in un certo senso siamo molto più simili a un cancro rispetto che a un virus ora so che suona malissimo ma era giusto per ragionare su questo aspetto qua noi esseri umani siamo dei grandissimi costruttori di nicchia come i castori come il cancro come molte piante che appunto tendono a costruire la nicchia detto questo questa era l'ultima cosa che volevo dire sì forse non ho finito benissimo il discorso io a Matrix lo amo profondamente è uno dei miei l'ho detto preferiti e basta credo che il video verrà lungo finalmente così chi si lamenta che i video sono lunghi no corti sarà contento e basta mi sono divertito tantissimo a fare questo video era da un sacco che ci lavoravo tutte le scenette tutte le cose mi sono proprio divertito in realtà non so se avete notato mi sono anche abbronzato tra quando ho girato un pezzo e quando ho girato quella dopo quindi questa cosa farà ridere però in teoria è tutto verde niente non vedo l'ora di finire di montarlo e di mandarvelo e farvelo vedere e vedere le vostre risposte e qua è una delle volte in cui se davvero vi fa schifo cioè ditemelo in privato perché no non so vorrei che vi piacesse ecco questo è il mio problema perché ci ho dedicato talmente tanto tempo talmente tante energie che mi dispiacerebbe che non vi piacesse ciao a tutti e noi ci vediamo ai prossimi video ciao